Mancano poche ore al debutto e ai fan del molleggiato non sembra quasi vero che stasera in diretta dal teatro Camploi andrà finalmente in onda e in scena Adrian, l'attesissimo show di Adriano Celentano. Nel corso del weekend numerosi fan che si sono assipati davanti all'hotel Due Torri in centro città per riuscire a scorgere anche solo per pochi secondi il cantante che in questi giorni ha fatto la spola tra l'albergo e il teatro per le prove. Oggi proprio davanti alla basilica di Santa Anastasia abbiamo raccolto alcune voci di turisti cittadini che si sono espressi sullo show. C'è stato un particolare movimento qui a Verona soprattutto in zona Sant'Anastasia e Due Torri. Sì effettivamente soprattutto ieri che è venuto appunto fuori Adrian con la macchina e quindi erano tutti ammassati lì ad aspettarlo. A noi è andata bene, abbiamo lavorato. Chi alloggiava qui all'hotel Due Torri lo sapeva? No no, bella sorpresa e benvenuto Adriano Celentano e tutti quanti. Sapevate che Celentano sta alloggiando proprio qui dietro di voi? No non lo sapevo, è una bella notizia, non venendo a Bergamo per visitare Verona che è una bella città. Bene. C'è tanta gente anche che aspetta da ore che arrivi Celentano, cosa ne pensate? Penso che se una persona faccia così tanto, sia così tanto famosa sia giusto, ha un'età, ha fatto la storia della musica italiana ed è giusto che si abbia questo, questa importanza. Conoscete la serie? Sinceramente no. Sapete che Adriano Celentano alloggia proprio qui all'hotel Due Torri? Non lo sapevo, lo so adesso. E la guarderete stasera, stasera la prima puntata al debutto? Probabilmente sì dai, la guardiamo. Adesso che me l'hai detto mi è venuta curiosità.